buonasera tutte ragazze ragazzi mi presento con un altro video in cui voglio provare a fare un tentativo di trucco diverso dal solito una cosa che non ho mai fatto quindi provo adesso con voi in super diretta allora è un trucco occhi come avrete letto dal titolo una graphic liner su palpebra cadente quindi è una bella sfida allora come vedete nell'occhio che truccherò ho già effettuato una base con il correttore e l'ho settata con la cipria la banana powder di essence siccome non ho una grande manualità con l'eyeliner perché l'ho messo poche volte e non ho solamente come speto un eyeliner marrone che voglio cominciare a usare più spesso perché mi piace però devo farci molto la mano userò una matita questa matita che è della natura verde e da questo colore tra un verdone con base grigia grigio blu bellissima lo saprei bene come descrivere il colore uso la matita abbastanza puntita perché appunto mi permette di essere un pochino più sicura nel tratto mentre l'eyeliner invece rischia molto di sbavare soprattutto quando sia inesperti allora comincio con siccome ho la palpebra cadente appunto comincio col tirare sollevare un pochino la pelle della palpebra guardate che colore che ha bellissimo e faccio mi traccio questa linea guida e poi proseguo praticamente a modi eyeliner sopra la riga sopra la rima ciliare faccio questa riga poi lascio l'occhio nel colore spero che si veda sempre leggermente tirando più che altro perché altrimenti la pelle mi segue nel tratto vado a fare questa riga di matita adesso cerco di dargli una forma ovviamente all'insù altrimenti quindi guardo verso il basso troviamo e vado a tracciarmi intanto questa piccola riga che deve essere fatta sulla palpebra fissa è una prova che sto facendo poi la mia idea sarebbe quella di sfumarla quindi non fare proprio una linea netta vediamo se è fattibile anche su una palpebra come la mia ok la linea fatta cerco di dargli una forma maggiormente allungata e all'insù riempio questo gap che ho lasciato prima e vado a sfumare il tutto poi cercherò di dare una forma ancora più appuntita sfumo andando avanti indietro e verso l'alto allora questa è una matita a pasta morbida quindi non è di quelle che si fissano io ovviamente questo trucco vi consiglio di farlo invece con una matita che si lavora subito ma poi diventa indelebile si fissa diciamo ecco perché altrimenti soprattutto se avete la palpebra come la mia dopo un'ora ve la trovate stampata dappertutto ecco io per sfumare ho usato questo pennello diciamo a penna ma di precisione perché essendo una matita da sfumare preferisco avere un effetto un po più deciso cioè ci vuole un pennello molto più robusto e deciso ho fatto una specie di cut crease alla fine mi si è rivelato tutt'altro di quello che pensavo adesso rimetto un pochino ancora di colore qui però niente ragazze non riesco con la matita non riesco a farla dritta definita perché appunto la palpebra la mia palpebra non è un foglio di carta liscio e piatto ma è immobile ma è una palpebra comunque cadente come conformazione e la pelle mi viene anche molto dietro però guardate sta sfumatura che bella è una specie di cut crease alla fine la matita sembra grigia in realtà è un verde blu bellissimo spero che renda un po il colore ecco volendo si potrebbe fare una linea più precisa qui all'esterno per riprendere un po la vita un pochino più grafica in questo modo guardate sicuramente è un trucco abbastanza wow un effetto faccio un'altra cosa provo anche a disegnare la punta il dotto lacrimale per fare una specie di cat eye vedete qui forse si vede meglio il colore della matita guardate qua e poi ovviamente la waterline inferiore è bellissimo questo colore la pecca di questa matita è che è naturale quindi non mi irrita assolutamente gli occhi ma una durata un po breve guardate qua è veramente 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 bello un colore bellissimo ora per finire il trucco vado a mettere una riga invece di eyeliner questo qui che ho della essence marrone è proprio attaccata alle ciglia per dare continuità diciamo a questo trucco mi appoggio proprio sulla base delle ciglia e vado a fare questo questa linea di eyeliner che si congiunge anche al blu che ho messo all'inizio vedete che ha più continuità così trucco bello intenso ok ora metto gli ultimi due step metto un po di mascara e poi no scusate prima metto un colore chiaro qui sull'azzurro se ce l'ho a portato di mano e poi metterò una bella passata di mascara tra il blu e il grigio qui ci starebbe benissimo chattermark di nabla ma ora non sono nella mia stanza dei trucchi e non l'ho portato con me brava mamma mia guardate fatto col dito proprio ora anche se ho fatto la riga diciamo qui interna in blu vado a mettere lo stesso un punto luce qui poi trasparente brillante guardate che effetto già che fa vado a risfumare un attimo questa parte esterna per dare un po più di continuità e metto una passata di mascara è bello mi sta piacendo fa qualche grumetto però ormai è anche un paio di mesi che l'ho aperto quindi si starà un po seccando però io lo preferisco adesso rispetto all'apertura questo è il look finito tentativo di cat eye di scusate di graphic liner finito in una specie di cat eye sfumato a me piace molto soprattutto come trucco per la palpebra cadente è molto 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 bello bene tante volte dagli errori nascono poi cose positive lo sappiamo grazie per avermi seguito spero vi sia piaciuto vi sia utile un bacione a tutti e a tutte ciao a presto